Anche questo mese i cancelli si stanno aprendo, i fedeli arrivano nonostante il maltempo per celebrare non solo una nuova presunta apparizione ma anche un momento importante, cioè l'anniversario della prima apparizione in collina. È il settimo anno che abbiamo iniziato le preghiere qui sulla collina. Quante persone verranno secondo voi nonostante il maltempo? 200. Il vescovo non ha consigliato di non venire fino a che non si esprime? Perché dite quello che vi pare voi? Perché ascoltate solo chi volete e dite solo quello che volete? Quattro uomini, un'intera squadra pagata dai contribuenti in località Campo delle Rose per garantire la sicurezza e per tutelare Gisella Cardia? No, non per tutelare Gisella Cardia ma per garantire la sicurezza in quel luogo, ahimè è una grande verità purtroppo. Sono risorse pubbliche che noi sostanzialmente dovremmo privilegiare per le altre attività. Ora stanno leggendo i messaggi che poi verranno fatti volare attaccati ad un palloncino. Un messaggio per ogni anniversario, dalla prima apparizione in collina. No, vabbè, i messaggi col palloncino non li avevo visti. Buongiorno e ben arrivati, costorie italiane, buongiorno ai nostri ospiti, ciao al signor Luigi, ciao Luigi Abella. Ciao, grazie di essere collegato con noi, con la nostra Roberta Spinelli. Allora vediamo che cos'è successo venerdì scorso, cioè questo venerdì che è appena passato. Noi eravamo lì con le nostre telecamere e noi continuiamo a seguire la nostra inchiesta su queste presunte apparizioni. Guardate. I cancelli si sono aperti anche questo mese, soltanto per i fedeli. Oggi è un giorno ancora più importante rispetto agli altri, sia per Gisella che per i suoi guerrieri della luce. È il settimo anno che abbiamo iniziato le preghiere qui sulla collina. Sono già arrivati alcuni fedeli, ci sono le sedie già predisposte. E anche questo mese non mancano i sacerdoti. Come? Non l'abbiamo vista l'altra volta. C'ha il rosario in mano. Ma come mai non segue i consigli del vescovo che ha consigliato di non venire fino a che non si avrà una risposta sulle presunte apparizioni? Lei crede nelle presunte apparizioni? Crede in Gisella? Crede che riceve il messaggio dell'amatore? Io personalmente sì. Ora stanno leggendo i messaggi che poi verranno fatti volare attaccati ad un palloncino. Un messaggio per ogni anniversario, dalla prima apparizione in collina. In totale sono sette. In località Campo delle Rose sono arrivati 150 fedeli più 18 volontari. E ora attendono tutti la lettura del presunto messaggio che Gisella avrebbe anche questo mese ricevuto dalla Madonna. E' appena finita la lettura del messaggio, Gisella ha lasciato un commento, ha invitato ad essere lì e a non farsi tentare. Ma che me l'hai detto? Dunque, fra poco avremo un'intervista anche con il vice sindaco che ci racconterà che cosa sta accadendo lì su quel pozzo, posticcio che è stato messo lì per ora, per ora. Sembra inutilizzato e inutilizzabile perché gli hanno bloccato i lavori, credo. Dunque, Roberta e Luigi, a voi. Noi abbiamo provato a chiedere se ci rispondevano, poche risposte. Fra l'altro questi sette anni festeggiati con i palloncini, addirittura con il messaggino legato con un nastrino, ci è sembrato forse un po' troppo. Venivano dal cielo. Una specie di sceneggiatura. A voi. Sì, buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Effettivamente sono volati i palloncini come però, queste sono le novità, iniziano anche a volare le persone molto vicine all'associazione. Quello che parlavamo sempre, lo zoccolo duro, inizia anche lì a vacillare. Quindi questo significa che si inizia anche all'interno dell'associazione, si inizia a fare più chiarezza. E quindi facendo chiarezza c'è già qualcuno che ha deciso di prendere le distanze. Qualcuno che però non solo ha preso le distanze ma ha iniziato anche a battere cassa. Perché mentre prima, diciamo, dava le proprie prestazioni in maniera gratuita, Alla fine, forse, alla fine, proprio è notizia dell'ultimo periodo, si è allontanata. C'è una persona molto vicina a Gisella che l'ha sempre tutelata ma si è allontanata perché ha visto qualcosa che effettivamente le ha fatto capire che non c'è totalmente chiarezza e che si vuole andare avanti anche molte volte non nel rispetto delle regole. Luigi, iniziano a battere cassa, iniziano ad allontanarsi ma soprattutto l'associazione pare non fermarsi neanche davanti alle sentenze perse. Sì, purtroppo a me piace parlare chiaro, quindi mi assumo la responsabilità di quello che dico. Chi è andata via a battuto cassa è l'avvocato Orlando che ha seguito Gisella fino a poco tempo fa. Ora, il problema che mi fa sorridere invece sono i messaggi che vengono fatti volare col palloncino. Io vedo che è presente un sacerdote, vorrei farle questa domanda. Lei ritiene teologicamente esatte a questa frase di Dio Padre? Sono io che permetto a Gesù di toccare... La ripeto Padre. Dipendesse da me io di queste... Sono io. Dicevo che dipendesse da me io di queste presunte apparizioni non parlerei neanche. Se non fosse per mettere in guardia tanta gente che in buona fede segue e rischia di caderci, anche mettendoci poi dei soldi, facendo degli investimenti. Ecco, a parte la sceneggiata di far vedere questi palloncini, non lo so, mi verrebbe da dire, è per dire che sono messaggi del cielo, ma se lo diciamo solo a titolo di battuta, io trovo davvero abbastanza ridicolo voler attribuire alla Madonna degli avvenimenti che poi in realtà sono profondamente intrecciati con degli interessi economici. Mai le apparizioni della Madonna hanno prodotto degli interessi economici sui veggenti che l'hanno vista, che hanno parlato con la Madonna. Che poi intorno alle apparizioni ci sia un indotto e un'altra cosa, ma mai abbiamo visto gli interessati diretti. E il secondo luogo, ancora più grave a mio modo di vedere, è il fatto dei messaggi che tante volte nascondono delle minacce. Sarebbero questi i ricatti di Dio. O tu credi, o tu ti avvicini a Dio, oppure ti succederà chissà che cosa. Sappiamo che questo non è il Dio cristiano, quindi mi pare che anche teologicamente qui ci sia un grosso difetto di contenuto che ci fa propendere per il no all'autenticità. Dopo è vero che in questo momento c'è il Vescovo, ci hanno detto che c'è il Vaticano che ci sta pensando, ma mi pare che il senso della fede del comune cittadino dovrebbe tirare delle conclusioni. Allora, vediamo un po' che cosa... Eleonora, posso fare? Eh? Dimmi Luigi, dimmi. Eleonora, vorrei dirti una cosa. Siccome il Papa ha detto che si vuole interessare a Trevignano, Essendo il mio Papa, il Vicario di Cristo, vorrei chiedere Lei è d'accordo che Dio Padre dà il permesso a Gesù di toccare terra? Essendo tre figure e persone uguali e distinte? Gesù è venuto una volta in questo mondo e quindi ha dimostrato che il Padre era d'accordo che mettessi i piedi su questa terra. Poi vorrei dire, lasciamo Dio fare il mestiere di Dio. Non dipende né dal Papa, né dipende da me, né da lei. Però Luigi, io oggi volevo parlare di soldi con te, no? Soprattutto è da un po' che non ci parliamo, no? Adesso ho capito. Adesso ho capito. Parliamo di soldi. Allora, parliamo di soldi, bravo. Senti, ma questa famosa statua che ti dovevano ridare, questa qui che ormai è diventata famosa, questa statua, ma mi spieghi che fine ha fatto? Allora, la statua si trova presso una diocesi vicino Civita Castellana che è quella di Santa Rufina. Non è vero che mi hanno detto se la volevo e poi anche se me l'avessero chiesto adesso, parlo di adesso, non ha più senso perché ho deciso di fare la revoca delle donazioni. Ah, e si può fare la revoca delle donazioni? È consentito? Aspetta che chiedo all'avvocato di studio, Gassani. Assolutamente sì. È consentito questo? È consentito. Cioè se io faccio una donazione ad un'associazione, no? E decido di donare certi soldi perché lo statuto... Perché i motivi è sempre consentito, quindi il signore ben può pretendere la ripetizione. Anche dopo un po' di anni? Sì. Per cui richiede i soldi indietro? Assolutamente, lo può fare, soprattutto per una giusta causa come questa. Cinque anni. Cinque anni, sì. Ah, entro cinque anni, vedi, mi avete dato un'informazione. Senti, vogliamo... Entro cinque anni. E poi anche perché c'è, ci sono le due motivazioni. Certo. Indegnità e falsità. Assolutamente sì, è confermato questo. Allora, sentiamo un po' che cosa ha detto il vice sindaco, Luca Galloni, il vice sindaco di Trevignano. Gli abbiamo fatto delle domande, perché l'altro giorno abbiamo visto, Roberta, spiegami un po' quel pozzo lì, perché una delle idee di Gisella era quella di creare anche un pozzo d'acqua miracolosa. Eh beh, certo, acqua santa. Acqua santa, no, miracolosa, perché l'acqua santa è benedetta, no? Sì. E lì i preti non ce ne sono più, per cui chi la benedice? Una sorta di nuova lourde. Ecco, però di creare l'acqua dei miracoli. E eccola qua, questa è la foto di quello che hanno cercato di fare. Roberta, spiegami un attimo a sto pozzo. Secondo. Sì, Eleonora, non avendo l'autorizzazione per la realizzazione di un pozzo, loro hanno pensato bene, ed era a ridosso del 3 novembre, quindi dell'incontro che si è tenuto venerdì, di inserire all'interno di località Campo delle Rose, di questa proprietà che è privata, ma ricade in zona A di parco, ricordiamolo, quindi a V e esterta da vincoli, una cisterna gonfiabile con tanto di impianto che circoscrive tutta l'aria. Questo successivamente alla piantumazione di 100 alberi che formavano un cuore e una croce. Ovviamente era la scusa, perché la stessa Gisella, che all'inizio, durante uno degli incontri, in tempi non sospetti, diceva di pregare, invitava i fedeli a pregare per l'autorizzazione, perché arrivasse l'autorizzazione a fare questo pozzo che non serviva certo per annaffiare le piante, bensì per curare lo spirito e la mente e anche i cuori delle persone, per cui un'acqua santifica. Ecco qua, allora che fine ha fatto? Lo state vedendo, no? Questo telone enorme. Io chiedo un po' di silenzio studio, ragazzi, scusatemi, immagino che sia lunedì, però veramente c'è troppo rumore studio, non riesco a parlare così. Allora, niente, oggi succede di tutto e di più qua. Dunque, questo è il telone, giusto Roberta? Che è stato coperto questo, perché dovrebbe essere un gonfiabile questo, giusto? Esattamente, è una struttura gonfiabile, si riempia di acqua. L'hanno tolto? Cioè, questo se non lo possono utilizzare, perché non lo tolgono da là? Cioè, deturba anche, scusatemi, no? Il paesaggio, sta roba lì, non credo sia nemmeno possibile tenerla là. Perché non l'hanno tolto? Peraltro, Eleonora, c'è un motore che comunque disturberebbe gli animali e disturberebbe comunque, non potrebbe essere utilizzato. Non è stato tolto e questo ce lo chiediamo tutti, ma sicuramente non è stato tolto perché al momento è stato bloccato tutto perché ci sono stati dei controlli da parte dei guardi a parco e della polizia municipale. E come è solita fare l'associazione, lasciano tutto nel campo per poi magari, forse fra meno di un mese, lo vedremo gonfiato prima che intervenga qualcun altro. Come hanno fatto, d'altronde, quando non avendo le autorizzazioni, hanno messo le panche, hanno messo la teca e tutte le cose che poi hanno dovuto togliere. Peraltro hanno dovuto togliere anche i cordoncini che delimitavano l'area delle preghiere dall'area dei parcheggi e poi abbiamo visto venerdì che hanno inserito nuovamente questi cordoncini a delimitare l'area in cui Gisella si inginocchia durante la giornata e riceve presumibilmente il messaggio che poi legge ai giornali. Allora, vediamo un po' cosa ci ha risposto il vice sindaco, poi ritorniamo da Luigi perché vorrei sapere se mi fa un conto totale dei soldi che lui aveva dato, donato spontaneamente a Gisella e quanti soldi adesso gli richiederà indietro. Perché quei soldi, tradotti in concretezza, sono serviti per comprare le statue, le panche e non solo. Allora, sentite invece la risposta su questa faccenda qui del pozzo gonfiabile che sta ancora là, non è stato tolto. Un presidio. Vice sindaco, buongiorno. Storie italiane, siamo al 3 novembre, quanti uomini sono stati impegnati per il controllo in collina? Ma come ogni appuntamento del 3 del mese noi impegniamo l'intera turnazione disponibile della polizia locale di concerto con le altre forze dell'ordine, quindi credo che oggi siano 3 o 4 genti quelli che abbiamo. Quattro uomini, un'intera squadra pagata dai contribuenti in località Campo delle Rose per garantire la sicurezza e per tutelare Gisella Cardia? No, non per tutelare Gisella Cardia ma per garantire la sicurezza in quel luogo, ahimè, è una grande verità purtroppo, sono risorse pubbliche. Il comune ha conoscenza dei nuovi lavori che stanno facendo nel campo dove avvengono le presunte apparizioni? C'è un'attività di indagine rispettiva della polizia locale e degli agenti guardia Varco, dell'ente regionale Varco di Bercione e Martignano, sì. Stiamo parlando del sistema di irrigazione e della cisterna gonfiabile che hanno installato. Era stata fatta qualche comunicazione o autorizzazione in merito? Su questo non lo so, gli uffici sono sempre molto puntuali, siamo sempre al lavoro affinché tutto sia garantito nel rispetto della legge. A volte i tempi sono lunghi, questa è la verità. Farete un sopralluogo ufficiale con tanto di relazione per come richiesto dal Comitato per la Legalità? Ma se questo non è già stato fatto, io adesso non ho contezza con gli uffici, se l'intervento è stato già relazionato o è in via di relazione, però assolutamente sì. Possiamo dare una garanzia che i tempi sono lunghi ma prima o poi si arriverà a dare una risposta ai cittadini e comunque a far rispettare le regole? Assolutamente sì. Allora, è l'idea dell'impunità in tutta questa vicenda, fare delle cose che ad esempio non sono previste dallo statuto? Ovvero se nello statuto, e a questo chiedo Luigi, nello statuto dell'associazione esattamente che cosa tu credo l'abbia visto, sappia di che cosa parliamo? Che cosa dovevano fare loro? Ho tutta la documentazione e siccome ci sono stati due associazioni, la prima associazione appena nata che era semplice poi è stata trasformata in ETS, ente terzo settore, per cui quando l'associazione è ente terzo settore, le donazioni devono servire per lo scopo che è quello di aiutare secondo la ragione e la denominazione dello statuto, tanto più che prendono anche soldi pubblici, pochi o molti che siano, del 5 per 1000 Ecco, però di quei soldi lì che sono arrivati per le donazioni non mi risulta che siano stati utilizzati per lo statuto, cioè per ciò che era destinato il contratto in essere della fondazione ma sono stati utilizzati per fare altro, ok? Giusto o sbagliato che sia, io non sto giudicando, però sto solo dicendo una cosa, cioè a noi di tutta questa faccenda tu Luigi lo sai bene, di tutta questa vicenda noi interessano che fine hanno fatto questi soldi, ok? E come sono stati utilizzati? Allora bisogna capire il motivo, allora Daniela bisogna capire perché Luigi aveva dato questi soldi Eleonora Eleonora, ho dato questi soldi Dimmi lui Allora, questi soldi sono stati dati dopo una estasi di Dio padre che chiedeva di costruire un santuario Infatti erano pronti 125 mila euro e altri 450 mila euro 450 mila euro? Cosa è accaduto? Sì Ma è la prima volta che mi dici questa cosa? Che lui doveva dare Eleonora Sì, lui doveva dare perché Gisella aveva detto a Luigi che gli era apparso l'Altissimo dicendo che in quel luogo doveva costruire un santuario e quindi che Luigi era il prescelto per farlo ecco perché è il direttore dei lavori Eleonora, Dio padre ha detto che mi aveva scelto per un grande progetto Perché ho iniziato a dare i soldi? Perché un giorno mi disse che era molto dispiaciuta perché i cavalli avevano fatto i loro bisogni davanti alla statua Allora io ho anticipato i 120 mila euro e quelli me li ricordo 125 mila euro E poi grazie a un'eredità che ormai era sicura avremmo dato altri 450 mila euro Ma 450 mila euro per fare che cosa? Per costruire uno stabile? Ci sono tantissimi Il santuario Il santuario Allora, non so se vi ricordate, un tre del mese Dimmi, dimmi Luigi Sì, però quando io frequentavo Gisella, Gisella ci diceva, quando qualcuno faceva qualche osservazione, c'è il vingolo paesaggistico Nulla, nulla è impossibile, addio Siccome abbiamo già percorato il terreno dietro la croce Eh Per organizzare il pozzo Vedrai che al primo miracolo E qui tutti quanti ci autorizzeranno Così come a Lourdes Nessuno avrebbe mai immaginato di costruire un santuario Gli andava a fare come gli pareva Ho capito, ho capito Però fortunatamente questi soldi tu non li hai dati Tu sei rimasto con questi 125 mila euro di cui è anche le carte dei bonifici Perché tu hai fatto dei bonifici bancari a loro, no? Certo Motivo per cui adesso Io ho dato 95 Sì, sì, 95 mila, dimmi All'associazione e 30 mila euro al presidente dell'associazione Qualcuno ha insinuato che questi soldi li avevo dati privatamente Siccome ho lavorato al ministero dell'economia e delle finanze Se io avessi dato 30 mila euro fuori busta E senza motivazione sarei andato in confronto con l'antireciclaggio Certo Perché non si capisce perché ho dato questi 30 mila euro a questo signore No, no, però tutti i soldi che tu hai dato sono Allora, Marano e buongiorno anche a Maria Rita Parsi Tutti i soldi che Luigi ha dato Prima all'associazione e poi quando è diventata fondazione Sono soldi intracciabili In totale trasparenza Anche perché Luigi conosce bene le regole E non è mai andato fuori dalle regole Cosa che invece probabilmente attraverso la volontà di creare delle strutture Lì in questo luogo protetto Non ci dimentichiamo che questo è un luogo protetto E deve rimanere tale per la legge e non per noi Non perché noi esprimiamo dei giudizi Non siamo qui ad esprimere giudizi Lo dico, io parlo di soldi, di carte, di leggi Allora, lui ha dato questi soldi Adesso li deve richiedere indietro Infatti io dico, come chiaramente concordo E non potrei fare altrimenti con l'avvocato Cassani Ma qui al di là della violazione degli articoli statutari Che riguardano la destinazione d'uso di queste donazioni Ma qui ci sono dei reati giganteschi Come il santuario che voleva costruire il papà del signor Luigi Perché qui abbiamo dei reati di natura penale C'è un abuso della credulità popolare in questo caso Cioè sicuramente dobbiamo dare atto a Gisella Di quanto riesca a fare presa sulla fragilità degli uomini, delle persone Ed è un personaggio carismatico Perché riesce effettivamente a lottare contro tutto e tutti E sta lottando contro il comune, contro l'ente parco Contro voi giornalisti, contro la chiesa stessa E poi c'è un reato di truffa qui Cioè abbiamo effettivamente queste persone Un presunto reato Un presunto certo, un reato di truffa Persone che danno addirittura Sentivo 30.000 euro in cambio di un miracolo Come se i miracoli fossero a comando E poi insomma 120.000 euro dati in donazione Che possono sicuramente ritrovare indietro Allora ci sono delle tecniche manipolatorie Per arrivare alle persone E raccontare ciò che non è dimostrabile Al di là che questo succeda, non succeda Ripeto, però Il progetto è fiabico Tutto a fili, nei momenti di fragilità Mi interessava molto quello che diceva lei Ci sono momenti nelle persone migliori Di fragilità, di bisogno di sicurezza Magari sono persone che sono state nella vita generose con le altre Che hanno dato, hanno fatto In quei momenti di fragilità Cogliere il desiderio di essere addirittura accuditi Prodetti, sostenuti, riconosciuti Può essere questo E queste persone, come dicevi prima tu Hanno la capacità Proprio perché sembrano Proprio raccontano a se stesse Le bugie in cui credono Quindi sono proprio Ti raccontano quello che in realtà non sono Ma addirittura raccontano a se stesse di essere Quindi la loro patologia è talmente forte La loro compattezza Di riuscire a creare una specie di cerchio di fuoco Intorno alle persone Che proprio le isolano Le isolano, le convincono Le portano avanti E rompono E rompono la loro fragilità Naturalmente poi le persone nel tempo si rendono conto di questo Però attenzione Una cosa che vorrei tanto dire Guardate che tante volte il bisogno di sperare In momenti di situazioni che sono complesse A livello sociale E a livello familiare È un bisogno talmente forte Che ti affidi più alla fiaba Ti affidi più alla speranza Dio peraltro Noi abbiamo il costume di rivolgere Dio aiutami Dio mettimi in condizione Quindi è una preghiera Che tu ti aspetti che ti dia una risposta Il fatto di mediarla attraverso il denaro Quella è la perversione Che cos'è? Eh? Sono nuovi? Allora Adesso Luigi manda in onda Altri servizi nuovi Che abbiamo realizzato Anche su quello che è successo a venerdì Vediamo un attimo Dopo l'abbattimento del gazebbe L'eliminazione delle panche Della teca Dei cordoncini Sembrava essere iniziata Una fase nuova In nome della legalità Sono sparite le panche Sono spariti i cordoncini Che dividevano l'area delle preghiere Da quella del parcheggio Ed è sparita la teca Eppure è stata delimitata L'area delle presunte apparizioni Sono state piantumate Oltre centro alberi Al centro a formare una croce Lungo il perimetro della proprietà Ma soprattutto È stato installato Un impianto di irrigazione E qui c'è una cisterna gonfiabile Così pensavano e speravano I cittadini di Trevignano romano E invece pare non essere cambiato nulla Ormai siamo demoralizzati Tutto il paese è demoralizzato Perché qui non cambia niente Le istituzioni non intervengono La presunta veggente lo aveva detto Sono qui E intendo stare qui Insieme alle persone che ci vogliono bene E intendo continuare a pregare in questo luogo Peredendole a Dio E così sta facendo E con le piante Poteva mancare il pozzo Qui su come vedete Continuano a fare quello che vogliono Mettono le cisterne Mettono piante Fanno tutto ciò Quello che gli conviene a loro A questo punto non sappiamo proprio più Che dire, che fare Io personalmente ogni tanto vengo su A vedere se ci sono novità Se hanno messo qualcosa di nuovo Però è veramente scandaloso Eccolo lì il pozzo È scandaloso Però continuano a fare Un po' quello che voleva fare col santuario Luigi Adesso vediamo questa seconda parte Dell'inchiesta Io vi chiedo di pregare per me Non solo per me Ma per le nostre intenzioni Soprattutto per quelle della Madonna In questo luogo Noi, la Madonna mi ha già indicato Dove verrà E dove ci sarà Da dove uscirà l'acqua benedetta Come ha chiesto il santuario Che sicuramente ci sarà Non potendo almeno per ora scavare Per realizzare il pozzo La presunta veggente L'associazione stavano montando Una cisterna confiabile Pare senza alcuna richiesta O comunicazione agli enti preposti Di purità Hanno messo della cisterna dell'acqua Io spero che le istituzioni si muovano Che facciano qualcosa Perché sono quattro anni e più Che va avanti questa storia Nessuno si è mai mosso Non ha mai detto niente Fanno tutti i vaghi E non si sa niente E veramente siamo Veramente demoralizzati tutti L'associazione Madonna di Trevignano ETS Pare voler andare spedita Verso l'obiettivo Nonostante la battaglia legale Fatta di sentenze perse Ricorse al Tar Che da anni vede schierati Da un lato il comune di Trevignano Romano E l'ente Parco E dall'altro La presunta veggente Con l'associazione Madonna di Trevignano ETS Preseduta dal marito Gianni Cardia Noi non vogliamo niente Chiediamo una cosa Un'autorizzazione Per poter fare un pozzo Quindi non chiediamo nient'altro Quest'acqua tra l'altro La Madonna dice che sarà Un'acqua benedetta Che servirà a curare il corpo e l'anima Quindi non è una cosa che serve a me O alle piante Le piante erano una battuta come tante Ma serve a tutti noi Quindi Preghiamo per questo Gisella Cardia aveva chiesto proprio ai fedeli Di pregare per ottenere il permesso Di realizzare il pozzo E non per annaffiare le piante Che almeno adesso ci sono Questo vesco ci deve dire qualche cosa Poi ha voglia che dicono Ma a te che ti importa Tanto non sei credente No, io sono credente Ma non credo a questa pagliacciata Perché per me Tutto ciò è una pagliacciata Per ora i lavori sono stati bloccati Ma sono in molte a temere Che presto si vedrà sgorgare acqua Dal terreno dove avvengono Le presunte apparizioni D'altronde Gisella Cardia Non ha mai specificato Se l'acqua che ha definito Santa e che purificherebbe lo spirito Uscirà dal terreno O dal rubinetto Di una cisterna gonfiabile Tutto si può dire A questa donna Tranne che non sia determinata Luigi Anche l'acqua Che comunque È simbolica L'acqua come diceva L'acqua ha una grande valenza Simbolo di vita Perché è il simbolo della vita Se manca l'acqua Tu muori Ed è simbolo anche Di purificazione Però credo che ci sia dietro Anche una valenza simbolica Legata ai grandi santuari Il miracolismo Che è ancora peggiore Perché qui l'acqua Non è soltanto Sorgente di vita Lei dice L'acqua miracolosa Quella che farà i miracoli E lì gioca Sulla suggestione Della gente Perché nel momento In cui uno dice Io mi sono sentito bene Lì si comincerà A gridare al miracolo Dico soltanto una cosa Io vorrei davvero Che la Chiesa Dicesse in tempi rapidi Una parola definitiva Di fronte a un episodio Che mi sia consentito Non ha alcuna credibilità E vorrei anche Che un paese civile Come l'Italia Non si consentisse In nome di Dio Di violare continuamente La legge Non solo con l'impunità Ma anche con una sfacciataggine Di fare le cose Quasi che la legge Non contasse niente Però Don Bruno Va tutto bene Ma dopo sette anni Forse magari C'era già bisogno Di un intervento Assolutamente Prima del Vescovo Adesso il Vescovo È cambiato Che è stata anche Qualche ambiguità Però sette anni Sono un po' tanto lunghi È anche colpa del sistema Perché non è che Questa signora È determinata Gioca sul velluto Perché abbiamo Una burocrazia italiana Che è una delle peggiori Del mondo occidentale Perché una roba del genere In Svizzera In Germania In Austria 15 giorni O dentro o fuori O c'è la Madonna O non c'è Ma se non c'è Spagherai le conseguenze Questo è un paese Purtroppo Che ha delle difficoltà Luigi ci fai sapere Poi che sviluppi ci sono Per questa richiesta Di denaro Che tu hai portato avanti La richiesta Dei tuoi soldi Cioè non la richiesta Di denaro La richiesta Di vedersi Restituiti Tutte le tue donazioni Ed è Tuo legittimo Diritto Eleonora Voglio dire Che mi autodenuncio Di essere Un omertoso Perché Quattro anni fa Cinque anni fa È stato fatto Un buco Dietro la croce Dove si è arrivato A capire Che l'acqua È a 120 metri Io non ho detto nulla E sono omertoso Però quanti ciechi In giro Quanti sordi In giro Quanti malati Di mente In giro Cioè praticamente Hanno provato a vedere Se c'era l'acqua Per fare un pozzo Là Giusto? Questo mi stai dicendo La dietro La croce È a 122 metri Ma per bucare un terreno Ci vogliono Autorizzazione Ragazzi Cioè non è che uno Arriva E cerca l'acqua E cerca di fare un pozzo Così Non solo Ma ci vogliono Anche attrezzi Sì appunto Non è che la fai con cacciavite Non è un fatto da l'abdomanti La fai con la zappa Insomma Per cui tu mi stai dicendo Luigi Scusami Tu mi stai dicendo Che è arrivata Un'impresa Per fare un buco Dietro a quella croce Ovvero Per cercare L'acqua Si fa così Di solito Per fare Un pozzo Questo si fa Solitamente Con delle autorizzazioni E mi stai dicendo Che non solo Gisella Sapeva che quella cosa Non si poteva fare Ma anche Chi È venuto Ed è intervenuto In quella situazione Con addirittura Un'impresa Perché ci vuole Una trivella Per andare giù Non aveva Le autorizzazioni Per operare Per cui tutti Zitti e muti E nessuno Si è accorto di niente Questo mi stai dicendo Basta Basta che Basta che Il presidente Badaloni Manda il guardaparco Dietro la croce Toglie Toglie Alcune pietre E si vede Il buco Quindi Non è che bisogna Avere testimonianze Ci sono le prove Qua c'è la blasfemia Poi Del luogo Della ricerca Per dire poi Che era la croce Che aveva prodotto l'acqua Luigi Non so se mi vedi Allora Qua c'è la croce No? Ci sono delle pietre La croce è blu La croce è blu Queste pietre qua Dici? Quelle da dietro A un metro e mezzo A un metro e mezzo C'è il buco A un metro e mezzo C'è il buco Non solo Mi fai Fammi finire di sentire Ti posso anche dire Un'altra cosa Un attimo Eh Dimmi Allora questa È una denuncia A noi fedeli Eh Certo Certo che è una denuncia Altrimenti Ma io perché Mi chiedo Perché nessun magistrato Mi chiama Nessun vescovo Mi chiama Ti chiamiamo noi Luigi Vabbè Eh Per me Eh Lo so Però Ti do Ti do una chicca Ti do una chicca Dimmi A noi fedeli Gisella ci ha sempre confidato Eh Che lei Che lei poi Quando sarebbe diventata famosa Sarebbe stata sepolta In quel posto Va bene Nel pozzo Va bene Allora Grazie Luigi Adesso Sai che cosa facciamo Con la tua Denuncia in diretta Io ti ringrazio Di avercelo detto E raccontato La nostra Roberta Spinelli Chiuse le telecamere Chiederà All'ente Parco Adesso di andare A visionare E capire Se veramente Lì è stato fatto Un buco O meno Ma non abbiamo Motivo Per non credere A quello che ci sta raccontando Luigi Avella In diretta Grazie Poi vedremo Come andrà a finire Grazie a tutti